Raffaele Natino Il rendimento nelle prime partite però il vero Natino probabilmente esce fuori dalla distanza Eh sì magari perché proprio il mio forte è la condizione fisica, l'atletismo Inizialmente ho avuto qualche problema, qualche acciacco, qualche infortunio Quindi sono stato un po' fermo, poi l'ho ripreso e ora stiamo riprendendo e sto entrando in condizione Taranto e Cavesi, due avversarie di primo piano da affrontare una dietro l'altra Cominciamo dal Taranto, che partite d'aspetto? Aspetto una partita per noi non è importante che abbiamo di fronte Andiamo in campo come se fossero tutti uguali Per noi dobbiamo fare la nostra partita al di fuori dell'avversario che abbiamo contro Che sia Taranto o Cavesi, noi ci giochiamo la nostra partita È passato qualche giorno però non ci hai detto ancora a chi va dedicato questo primo golo Questo golo così importante? Beh questo golo io lo dedico alla squadra, che per me è la famiglia A mio padre che mi segue, a mio amico Antonio Maio che gioca con me, che per me è come un fratello Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!